La principessa afghana Soraya Malek dà ieri a Teramo per una due giorni in città. La nipote dell'ultimo re d'Afghanistan e della regina Soraya Tarsi nota per essere un'attivista a favore di diritti umani attraverso Soraya d'Afghanistan Foundation da anni è impegnata a promuovere il lavoro e la dignità delle donne afghane, sostenendo iniziative che coinvolgono l'artigianato femminile d'eccellenza. Dopo gli appuntamenti di ieri, oggi la principessa ha incontrato le studentesse e gli studenti delle scuole superiori dell'Ateneo Teramano in un evento dal titolo La condizione delle donne afghane, la loro storia, la loro cultura. Intanto io ringrazio la cittadinanza di Teramo, il sindaco e i teramani che non solo ci hanno accolto con affetto e a braccia aperte e anche gli afghani che verranno qui perché ho saputo che ci saranno delle famiglie afghane che saranno ospitate qui a Teramo. È bello dare un messaggio ai giovani perché i giovani sono sempre aperti e io cerco di dire come stanno le cose perché c'è molta disinformazione, non si parla dei vent'anni di dominazione in Afghanistan, si parla di quello che adesso sono i talebani. Parliamo di quello che hanno fatto vent'anni gli occidentali, che hanno portato alla democrazia, così hanno detto e volevano togliere il burqa alle donne. Il burqa alle donne afghane nei villaggi ce l'hanno sempre avuto e lo avranno. Un giorno spero di no, prima possibile, ma è una tradizione purtroppo dell'Afghanistan. Invece hanno fatto credere che il burqa e i talebani l'hanno obbligato alle donne. È vero, per le donne di città hanno obbligato, nei cinque anni che sono stati dal 1996 al 2001, hanno obbligato tutte le donne ad avere il burqa e di rimanere a casa. Io mi auguro che non sarà più così, ma stiamo tutti battendoci per questa cosa.